Dai Dio Su Vedrai che ci daranno dei soldi per quello che è successo Oh che vediamo? Tu mi ascolti? Quelle fabbriche sono costruite a tavoli in appoggio Ma lo capisci? E' roba che viene giù in un attimo Lo so, ma li hanno dichiarati agibili Li hanno dichiarati agibili perché vogliono che continuate a lavorare E' ovvio no? No, non è vero Arianna, no V'hanno valutato un sacco di cose Giulio non gliene frega una minchia di te Vieni COME WOW Allora dai, spiegati Guarda Giulio! Carri braccio, controlled!! Grazie a tutti. Grazie a tutti.